Stiamo per entrare nella fase più critica dell'anno, ossia la stagione estiva, dove notoriamente le malattie fungine sono molto devastanti per il tappeto erboso. BOTOS a tal proposito vi propone diversi prodotti, sia granulari che liquidi, che possono certamente limitare la sensibilità del tappeto erboso a queste patologie problematiche. Iniziamo con il proporre il Summer K de Alenia Master Green con tecnologia accessione controllata, dettata dal polion, ossia la frazione azotata in questo caso è rivestita al 100% da polion, questo polimero che con solo la variabile temperatura cede le unità di azoto. Il Summer K con titolazione 10-0-30 è un ottimo prodotto per quanto riguarda la fase estiva della concimazione, perché attraverso questa soluzione ad alta unità di potassio sicuramente preserva il tappeto erboso da tutti quegli attacchi fungini tradizionali della stagione estiva. Perché? Perché il potassio struttura gli organi vegetativi della pianta, quindi aumenta, fa aumentare la parete cellulare della foglia e questo provoca un irrobustimento dei tessuti, facendo essere meno sensibile la pianta ad attacchi di patogeni esterni. Resumendo le caratteristiche del Summer K 10-0-30, sicuramente un irrobustimento dei tessuti vegetativi, una maggior tolleranza agli stress da parte del tappeto erboso, una minore suscettibilità agli attacchi patogeni, una rilascio dei nutrienti in 90 giorni garantiti, una mancanza di picchi di crescita del tappeto erboso, e questo è molto importante in questa fase dell'anno, e attraverso questa tecnologia di rilascio controllato anche evitiamo le ustioni da una troppo elevata unità di azoto, o un rilascio immediato o comunque non idoneo alle esigenze del tappeto erboso. A partire dal mese di marzo, per tutta la primavera e tutto l'autunno, possiamo introdurre e integrare il nostro piano di concimazione granulare attraverso dei liquidi. Noi come Bottos consigliamo tre prodotti che sono Vigor Liquid, Always e Pre-Stress. Iniziamo dal Vigor Liquid che è un estratto di leonardite, quindi un concime organico, che ha proprio nella sua funzione principale quello di ammendare il terreno, quindi di proteggere la flora batterica presente nel terreno. Questo è il suo principale utilizzo durante l'anno, quindi che ad esempio può essere tranquillamente miscelabile con il nostro prodotto Trico Plus, proprio per dare una mano ai tricodermi presenti e che andiamo a introdurre nel terreno. Due funzioni importantissime del Vigor Liquid, uno che diminuisce la salinità del terreno e due che è ad azione radicale. Always è un biostimolante organico naturale ed è un idrolizzato derivante dall'estrazione della canna da zucchero, ha funzioni ammendanti ma soprattutto Always è specifico nel metabolismo della pianta, quindi va ad aiutare tutte quelle funzioni di fotosintesi attraverso e poi anche acidi umici e fulvici allo sviluppo della pianta stessa. Quindi è un prodotto che va ad aiutare al rafforzamento delle funzioni metaboliche della pianta. Always attraverso la presenza di amminoacidi, quindi ha un'importantissima funzione di antistress sulla pianta e un regolatore naturale del pH delle acque di trattamento. Il pre-stress è un complesso organico naturale derivante dalle alghe marine, in particolar modo dalla scolfillus nodosum. Questo prodotto molto molto importante nella fase proprio pre-estiva e anche pre-invernale, perché? Perché ha più di 65 elementi al suo interno fra micro, meso e macro elementi, enzimi, alginati, citochinine e questo fa in modo di avere una pianta con maggiore capacità di immagazzinamento delle sostanze di riserva e quindi di poter migliorare la resistenza del tappeto erboso di fronte a quegli stress tipici estivi come la carenza idrica o le alte temperature.